Io ci sono è il titolo del film tv di Luciano Manuzzi, interpretato da Cristiana Capotondi, nel ruolo della protagonista. È andato in onda in prima visione sulla RAI il 22 novembre dello scorso anno e presentato al cinema La Compagnia di Firenze in occasione dell'8 marzo, grazie ad un evento organizzato dal Consiglio regionale della Toscana. Al centro della storia la tragica vicenda di Lucia Annibali, giovane e affermata avvocato di Urbino che il 16 aprile 2013 è stata aggredita e sfregiata con l'acido solforico sul pianerottolo della propria abitazione. Nonostante l'alibi portato, il responsabile è stato individuato in Luca Varani, ex della donna, arrestato con l'accusa di aver assoldato due uomini di origine albanese per compiere l'efferato gesto, come vendetta per essere stato lasciato. Dal 2013 Lucia Annibali lotta per tornare ad una vita normale e tra tramite conferenze, partecipazioni a dibattiti, convegni, trasmissioni tv in tutta Italia, per l'affermazione della giustizia. La sua vicenda è infatti diventata il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. La pratica della deturpazione del corpo e del volto delle donne con acidi è una forma di violenza praticata in modo preoccupante in paesi nei quali i diritti delle donne sono ben lontani dall'essere rispettati, come Bangladesh, India, Pakistan, ma anche in Cambogia, Vietnam, Laos e in alcuni paesi africani, come Kenya, Repubblica Sudafricana, Uganda e Etiopia. Purtroppo da qualche anno il problema riguarda anche l'Italia e la lotta per contrastare questa forma come qualsiasi altra forma di violenza sulle donne non può e non deve fermarsi. Credo che sia importante parlarne soprattutto tra donne per poi impostare un discorso di cultura, di educazione sull'uomo perché le donne sono comunque madri di figli maschi e credo che quindi debbano trasferire questo senso di nuova figura femminile che evidentemente lascia molto spiazzati tantissimi uomini. Il contrasto che noi abbiamo scoperto essere più forti all'interno delle relazioni indagando appunto la storia di Lucia come tantissime altre storie è relativo a questo quasi scontro culturale che io chiamerei anche generazionale. Uomini anche di 30 anni sono legati ad un modello di donna di tantissime generazioni precedenti quindi non si trovano a proprio agio con questa figura e non riescono, non hanno gli strumenti per gestirla. Quindi è bene parlarne per fare in modo che le donne sappiano poi trasferire agli uomini, ai propri figli, ai propri fratelli, questo senso anche di nuova figura femminile. Come attrice, essendo stata vicina a Lucia Annibale, che cosa hai provato anche come donna? Sono situazioni molto particolari, c'è stata una vera congiunzione di realtà e finzione, credo che questa sia un'esperienza unica. Ho interpretato personaggi realmente esistiti, ho interpretato imperatricesissima, Lucia era con noi, quindi è chiaro che questa è una storia diversa, la sento molto vicina, è una persona che avrei scelto come amica se l'avessi incontrata in un altro contesto, quindi è chiaro che la sua storia mi tocca in maniera particolare perché le voglio bene. Tu spazi dalla commedia, dramma, eccetera. Quanto ti vedi come attrice anche impegnata nel sociale? Beh, non credo che, non so, quando si utilizza il termine impegnata nel sociale mi fa sempre pensare a qualcosa che sia al di là poi di quello che credo quotidianamente sia il compito di ognuno di noi, cioè di, almeno per quanto mi riconcerne la mia vita, mi occupo delle cose per le quali provo un'affinità, per le quali provo una curiosità, che mi sembrano delle tematiche importanti, poi il termine impegnata, non so, lo trovo sempre un po' altisonante rispetto semplicemente a riuscire a fare della propria vita ciò che ci interessa di più, quindi anche occuparsi di tematiche sociali.